ciao a tutti buongiorno ragazzi in questo nuovo video oggi parleremo del calcio mercato che è finito ieri finalmente è finito era tutti di cucchioni il 5 ottobre ancora sto calcio mercato basta finalmente abbiamo finito non abbiamo finito con il botto però comunque sono rimasti big quindi sono molto ma molto contento falco manco su gabrie sono rimasti quindi sono super contento di questa cosa anche se non ha preso nessuna fine comunque aveva già chiuso prima diciamo il mercato prendendo del macu del parma che è un ottimo giocatore per la serie b anche perché ha giocato anche titolare domenica scorsa quindi contro il verona che ha vinto 1 a 0 il parma e quindi ha giocato anche abbastanza bene quindi quindi sono super contento poi abbiamo presi tanti giovani listoschi come già ben sapete zuta anche prima non voglio dire enderson e tanti altri san rodriguez va bene un giovane del real madrid quindi sono più che contento dai di questo di questo mercato vabbè ha preso anche uno jongerberg la svedese che però dove prende i giocatori che si possono dire che se no sono complicati cioè ci dobbiamo imparare prima a dire i giocatori e poi li possiamo dire insomma un giovane di 22 anni quindi centrocampista sempre una scommessa alla corvino no che speriamo insomma sia sia valida ma sicuramente sì perché corvino è stato un grande insomma ha preso tutti i giocatori già funzionali al progetto li ha comprati e quindi è stata una cosa positiva no questa cosa qui che li abbia comprati insomma giovani di che comunque già stanno giocando è come tipo listoschi enderson zuta comunque c'ha 28 anni sta facendo bene poi anche coda e steghischi che ha preso del verona che anche un ottimo giocatore ma lui loro erano già confermati quindi secondo me secondo me forse forse è più forte quest'anno non ho un altro poco che dell'anno scorso secondo me si è sotto certi aspetti sì perché comunque sono rimasti i giocatori più forti dello scorso anno e quindi poi i giocatori giovani scommesse che comunque stanno andando bene quindi alla fine secondo me faremo un campionato di vertice stanno andando abbastanza bene i giocatori presi quindi secondo me forse forse anche più forte quest'anno quindi magari prepareremo eventualmente la serie all'anno prossimo quindi quindi sono molto molto contento io do almeno un voto 8 minimo quindi diciamo l'unica pecca un po è che non è riuscito a vendere gli super insomma rossettini vigorito e lo faso dubiscas quindi quelli la sono rimasti va bene sono riusciti per questioni magari economiche che delle altre squadre non c'erano le offerte adeguate comunque diciamo questa è l'unica pecca però magari forse loro si svincoleranno da quello che ho capito quindi riuscindono il contratto e vanno via no quindi comunque penso che ci sarà questa cosa e poi dovrebbe arrivare a metà ottobre che quello è un altro diciamo acquisto che avevamo già è ottimo perché l'anno scorso ha fatto 17 gol con il trapani in serie b quindi un ottimo giocatore secondo me poi dovrà cambiare modulo perché con avere tre punte di peso forti con per un solo posto la vedo un po dura potrebbe anche passare al 4 3 1 2 con falco mancoso diciamo trequartisti oppure mancoso trequartista falco seconda punta e coda oppure giocare con coda ste chispi insomma è da vedere un po vediamo vediamo come andranno le cose comunque sono super super contento cazzo super super contento di questo mercato siamo partiti bene con una vittoria e un pareggio come ben sapete anche abbiamo passato il turno in coppa italia adesso ci saranno 15 giorni di tempo per preparare la partita della sfida di breccia venerdì e quindi venerdì sera quindi sono super super contento forza lecce mi raccomando ragazzi seguitemi su su instagram guacci marco sfondate il tasto like e anche iscrivetevi al canale se volete seguire il pazzo glacius 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 giallorosso il super pazzo come sempre come dico sempre io e come sempre dico io così in briggio tutto ma picchiati buon ancora tutti e forza lecce via